Ben trovati per la nostra rassegna stampa, la nostra edicola. Iniziamo dal Corriere della Sera. Il titolo d'apertura giallo sul capo degli insorti russi perse le tracce di Prigozin dopo il blitz vacilla l'impero di Putin. Pechino sostegno a Mosca. La guerra. Gli Stati Uniti conoscevano il piano in anticipo, anche il Cremlino sapeva, ma l'armata non ha bloccato la marcia. L'articolo di fondo è a firma di Paolo Mieli. Ora serve un'idea per la pace, sempre sull'invasione russa, mentre vediamo una fotografia di un giovane di Rostov che sorride e scatta un selfie con Prigozin. Ancora vediamo di spalla i 43 milioni nel covo della Wagner, trovati soldi e lingotti. I generali dello Zar sono in bilico i bersagli della rivolta. Il dissidente è il momento della forza Khodorkovsky. Voltiamo pagina. Il Papa sul caso Orlandi, vicino alla famiglia. L'Angelus, la mail del legale. Ricordi, Emanuela. Finti poliziotti rapiscono uno chef italiano. Ecuador, la pista dei soldi. Vediamo la rubrica Data Room di Milena Gabanelli. Meloni, il bilancio tra promesse e fatti. Ed ancora Grecia, Mitsotakis stravince alle urne. I conservatori trionfano su Siriza. Di taglio basso, la rubrica Ultimo Banco di Alessandro D'Avenia, compiti per le vacanze. Passiamo al quotidiano La Repubblica. Vediamo naturalmente anche qui in primo piano la questione russa, roulette russa, il gioco di parole del quotidiano La Repubblica, la partita per il potere a Mosca. L'insurrezione armata, durata 36 ore, ha aperto. Crepe nel Cremlino. Gli apparati militari contendono a Putin i nuovi equilibri e il futuro della guerra. Trattativa sul destino della Wagner parte dalla Duma. Parte della Duma chiede che non venga assorbita dall'esercito. E Prigozin vuole tenersi le unità impegnate in Africa. Il leader della rivolta scompare dalla circolazione nel suo rifugio 43 milioni di euro. L'editoriale Il Cosacco ribelle di Ezio Mauro. Ancora il racconto Voci da una Russia senza più certezze. Ancora rimaniamo in tema l'analisi. Chi protegge i mercenari che volevano prendersi Mosca? Il fronte ucraino nelle trincee del Donbass svanisce l'illusione della spallata. L'esercito non fare ombra al Cremlino. Il destino dei generali dell'armata. L'intervista a Matteo Renzi. Biden ha ignorato Meloni. Il sovranismo è provinciale. Ci spostiamo al titolo di spalla, cambiando pagina la storia. I Berlusconi, cinque eredi in cerca di autore. Vediamo la fotografia con la famiglia Berlusconi. Elezioni in Grecia. Vince Mitsotakis. Torna l'ultradestra con Spartani. Ecuador, chef abruzzese rapito a Guayaquil da finti poliziotti. La strage di Ustica, le carte segrete. Missile non bomba, la Francia parli. Ci spostiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Anche qui il titolo d'apertura è affidato ad un gioco di parole. Mosca cieca. Il caos dopo il tentato golpe della brigata Wagner. Nessuna certezza sui giochi di potere in atto al Cremlino. Gli USA, lo zar è in bilico. Prigozhin sparito. L'analisi, ma vista dai russi, la crisi conferma il potere di Putin. Vediamo una fotografia della piazza rossa di Mosca chiusa al pubblico. Di spalla ci spostiamo alle questioni di casa nostra. Il questore di Bari, mai più inchini. Corteo al carcere, Sisto serve l'esercito. Treni troppo lenti e Taranto isolata. Salento fioccano le proteste dei turisti. Sono vicino alla famiglia di Emanuela. Il Papa cita la Orlandia. 40 anni dalla misteriosa scomparsa. Francesco, durante l'Angelus, rompe il silenzio del Vaticano sull'inquietante caso. Di taglio basso, vediamo, assente per 20 anni, destituita professoressa, ok? Anche dalla Cassazione è inettitudine. La rubrica Le idee, quegli affanni della democrazia iperdigitale, scrive Mario De Pasquale. E tra arte e natura un dialogo attorno al clima di Pietro Marino. Ciclone battiti in Puglia, ora Giovinazzo e Salento. Ieri l'ultimo bagno di folla nel capoluogo. Diamo un'occhiata alla pagina sportiva della Gazzetta del Mezzogiorno. Vediamo il Bari riparte, riecco Polito. Lecce da Versa, fare fatto per la panchina. Corvino cerca un portiere. Under 21, Italia col brivido, quarti ora possibili. Serie C, Pugliesi e Lucane, testa al mercato. Vediamo il taglio basso, nuoto. I sette colli chiude nel segno di De Tullio. E ancora volley azzurro, la calda estate di De Giorgi e Fanizza. Ci spostiamo all'edicola del sud. Il caso Bari fa discutere. Sisto invoca l'esercito. La sicurezza. Il viceministro parla dopo il corteo per Di Gioia. Carabinieri per noi minacce inaccettabili. Il retroscena politico. Emiliano chiude alla verifica ma il PD non si arrende. Punta al quarto assessore le voci di un possibile rimpasto. La polemica nel capoluogo. Noi segregati in casa. I residenti del centro storico contro il piano per battiti. L'esasperazione per il caos e i disagi. Bari, municipio 2, blindato. Ecco le firme. Andrea, strade chiuse per i lavori alla ferrovia. Cerignola, test di corsa per diventare vigile urbano. Matera, nuovo look per asfalto e marciapiedi. Di taglio basso invece vediamo sindaci nel mirino. Soltanto nel 2022 48 episodi di minacce. Il report di avviso pubblico. Più soldi ai medici per fermare la fuga dei nostri ospedali. La proposta dell'USMO. Sempre l'edicola del sud, ma nell'edizione del Salento vediamo Taranto. A settembre torna il Sail GP. Torre Guaceto, parcheggio a 8 euro e polemica. Leuca, madre Elisa proclamata beata. Uni Salento, il prof nelle pagine di Topolino. E ancora a centro pagina, l'ultimo titolo. Lecce, Parco, Bruno, Petrachi. Diventa inclusivo e smart. Spazio allo sport e all'arte. La rinascita nel verde. Ci spostiamo ora ai titoli del web. Vediamo il sito dell'Ansa. In apertura, naturalmente, anche qui la Russia. Blinken, Putin più debole e mistero su Prigozin. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno. Contrasto alla criminalità. Bari, corteo di scorta per il 27enne morto in moto. Sisto, città insicura, necessario l'intervento dell'esercito. De Caro, ascolti. La Repubblica, in apertura, un titolo di politica. Elezioni, le liste civiche spaccano il centro-sinistra. La varra del PD, dice, sono come zattere erranti. Clima teso dopo l'appello di Cassano e l'ex-eurodeputato. La primavera pugliese è finita. Foggia senza acqua. C'è un nuovo guasto sulla condotta riparata. Il ripristino entro domani. Lecce prima perde il controllo dell'auto all'alba e si schianta contro il palo dell'illuminazione. Un 49enne di Lecce in ospedale con codice giallo dopo un pauroso impatto su viale dell'Università. Taranto, buonasera. Danni del maltempo. Cade albero. Strada bloccato nella marina di Lizzano. Ci spostiamo su Brindisi Report. Furto monili in oro e pietre preziose per 80.000 euro. Due misure cautelari. Neguai un uomo e una donna. Il primo ora all'obbligo di dimora nel suo comune di residenza, mentre la seconda è stata condotta presso la casa circondariale di Salerno. vediamo ancora Barletta Viva contro abuso e traffico di droga. Asl Bat in prima linea con un convegno informativo. E ancora Barletta 1922, parliamo di calcio. Ancora 48 ore tra lunedì e martedì i nuovi nomi del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo. Bene, la nuova pista di Pietro. A quando il monumento, in riferimento naturalmente a Pietro Mennea. Bene, era questo l'ultimo titolo. Alla nostra attenzione. Grazie per averci seguito. L'augurio di una buona giornata. Grazie per averci seguito.